Giuseppe Nobiretti, sindaco di Vieste con la delega al turismo, è andato in archivio il primo lungo ponte di primavera, quello del 25, siamo a cavallo di quello del 1 maggio. Primo bilancio, di solito questi weekend fanno da banco di prova per la stagione estiva. Come è andata e soprattutto quali sono le aspettative? Allora, questi primi weekend sono andati bene perché soprattutto è stato il tempo a reggere, quindi con il bel tempo abbiamo avuto tanti turisti, abbiamo già un bel numero di stranieri che già da qualche settimana stavano interessando la nostra città, ma nei ponti proprio specifici abbiamo avuto tanta gente. Chiaro, non abbiamo i numeri di luglio-agosto, però per essere aprile abbiamo avuto delle discritte presenze. Ormai sono quasi due anni che c'è un aeroporto a Foggia, sta funzionando, ha dato i risultati attesi in questi weekend di primavera? Io sull'aeroporto penso che bisogna aprire una riflessione con Aeroporti di Puglia perché ritengo che sia necessario sedersi con gli operatori, sedersi anche con gli amministratori locali e darsi una strategia perché in questo momento credo che sia un po' sottotono. Vorremmo avere un apporto maggiore, vorremmo avere dei voli che provengano dal nord Europa, dalla Germania, da quelle parti del vecchio continente che sono il nostro target di riferimento. In questo momento vedo Aeroporti di Puglia un po' fermo, non vedo nessuna volontà neanche di interloquire con quelle che sono le destinazioni più importanti del Gargano perché hanno fatto una riunione a Foggia, con tutto il rispetto per Foggia, però Vieste rappresenta la prima destinazione della Puglia e del centro-sud Italia quindi magari riuscire ad interloquire con Aeroporti di Puglia non sarebbe male anche per dare una strategia perché non vorrei che poi si utilizzassero delle risorse fine a se stesse senza avere dei risultati tangibili. Bene è il volo da Milano però sinceramente ci aspettiamo qualcosa di più. Vittoria Vecera, imprenditrice turistica di Vieste, come è iniziata la stagione con il primo lungo ponte di primavera? Bene, io credo che sia andato abbastanza bene, a prescindere da quello che è stato il meteo, ma è stato veramente, ho visto molta partecipazione nel senso che ho visto molta gente girare per il paese. Ci aspettiamo anche quest'estate, sto vedendo, sto sentendo anche un po' di colleghi sto chiedendo anche ai vari collaboratori e sembra che ci sarà un'estate abbastanza vivace. Per le notazioni? Ecco appunto per quello, cioè stiamo vedendo che c'è richiesta, ecco c'è richiesta, poi dalla richiesta bisogna vedere quante vengono formalizzate, però stavo sentendo anche i colleghi c'è abbastanza richiesta di soggiorni. Ormai sono quasi due anni che è stato riaperto l'aeroporto a Foggia, vi sta portando risultati? Io credo che questo sì, anche perché sicuramente c'è un maggiore movimento da quando poi hanno pensato bene di collegare Milano-Linate, eccetera. Sicuramente sta aiutando per quanto riguarda almeno i fini settimana, sicuramente questo sì, l'abbiamo visto, ma si vedono anche nei numeri generati dalla stessa aeroporto di Puglia, insomma sicuramente è uno scalo che dovrà essere assolutamente potenziato, però i suoi risultati li sta dando.